Ciao a tutti, qui vi sto facendo vedere in controluce il lenzuolo quindi si vede abbastanza in modo chiaro la luce dietro e quindi significa che la grammatura del cotone non è molto alta questo invece è un classico lenzuolo Ikea normalissimo, basico e vedete che dietro invece non si vede proprio quasi niente quindi la differenza c'è sicuramente perciò visto che si tratta comunque di un lenzuolo non ha niente di che bianco per bianco sinceramente la qualità di questo lenzuolo non è altissima quindi è uno di quei lenzuoli che si romperà facilmente con il tempo perciò a parità anche di costo il mio consiglio è di andare ad acquistare un'altra marca che sia l'Ikea o qualsiasi qualsiasi altra cosa perché comunque il prezzo grossomodo è il medesimo e come qualità appunto la grammatura del cotone è molto è molto bassa quindi questa, quella dell'Ikea non posso dire che è il doppio però vedete che la differenza in controluce si vede ciao